Come è il concetto di passare nelle istituzioni da reazione a prevenzione? Questo è il più grande problema che in questo momento l'umanità si trova ad affrontare, non nelle marche, in tutto il mondo. Noi abbiamo per una serie di motivi che vanno a livello ancestrale, quindi motivo evolutivo, abbiamo la capacità innata dentro di noi di reagire di fronte alle difficoltà, perché erano fondamentali per poter sopravvivere. Se non trovavamo da mangiare, se non eravamo in grado di difenderci o di saltare su un albero, se arrivavamo un leone noi morivamo. Quindi istintivamente l'essere umano purtroppo, dico in questo momento purtroppo, tende a reagire e a non prevenire. Ecco, questa legge che è veramente una legge ambiziosa, perché sancisce un cambio di paradigma che è stato richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla FAO, dai Sustainable Development Goals dell'ONU. Cioè, tutti stanno chiedendo un cambio di paradigma, cioè aiutare la popolazione, partendo dai giovani, ma non lasciando fuori nessuno in questo processo, si parte dai giovani perché con i giovani è più semplice. Perché vedremo che la parola chiave di tutto questo cambiamento è abitudini. Sono le abitudini dell'essere umano che fanno la differenza. Sono le abitudini che hanno costruito il mondo di oggi, sono le abitudini di ieri che fanno questo piccolo disastro o grande disastro. Scegliete voi quale lente indossare negli occhiali, che oggi stiamo vedendo dal punto di vista ambientale, ma anche fisiologico, ma anche alimentare. Perché avete visto la desertificazione dei terreni, delle terre fertili che non lo sono più. Ci sono una serie di problemi importanti. Questa legge si pone l'obiettivo di ribaltare finalmente il paradigma e di aiutare la popolazione a tutti i livelli, mettendo dentro tutti aziende, istituzioni, scuole, nel settare la nostra mente alla prevenzione. Per la prima volta è una legge che inizia a facilitare concretamente e a premiare concretamente quelli che avranno stili di vita che vanno nella direzione della salute umana e della salute ambientale. Vuol dire della sostenibilità in senso pieno. Perché oggi purtroppo, e questo lo dico veramente con un purtroppo grandissimo, si è parlato nelle COP, in tutte le grandi riunioni a livello mondiale, si parla costantemente di sostenibilità, ma nessuno ha avuto mai l'onestà e il coraggio di dire alle persone, perché purtroppo la politica è fatta anche poi di voti, di dire che questo cambiamento da non sostenibile a sostenibile non lo faranno le COP, non lo faranno i presidenti del consiglio, lo faremo ognuno di noi con le nostre abitudini, ragazzi. Lo dico soprattutto a voi che siete giovani. Sono le nostre abitudini individuali che moltiplicate per 8 miliardi di persone faranno una transizione ecologica, se ci sarà transizione ecologica. Questa legge inquadra per la prima volta le abitudini e inizia a premiare le aziende, le istituzioni. Stiamo cercando di mettere dentro a sistema, poi la parte operativa inizierà con il 2024, di mettere a sistema tutto il comparto esistente, perché è una legge che come ha giustamente spiegato l'assessore Antonini è assolutamente interdisciplinare. E guardate che questa parola è una parola molto diversa da multidisciplinare. Interdisciplinare perché oggi sappiamo, per esempio, che nel caso della salute non è l'assessorato alla salute soltanto a poter garantire la salute, perché nessuna medicina al mondo garantisce la salute da sola, perché abbiamo visto che la salute è fatta anche dalla salute psicologica, che è dominio di chi studia psicologia, ma abbiamo visto che la salute di un essere umano è fatta molto anche dal cibo che mangia e quindi è fatta anche dai nutrizionisti, dai biologi, in grado di aiutarci nelle coltivazioni, dagli agronomi, nel capire cosa dobbiamo mangiare. Abbiamo capito un'altra cosa molto importante con il Covid e diciamo che Harvard l'aveva capita già un anno prima quando ha fondato un dipartimento che si chiama Health and Happiness Center. Abbiamo capito che le emozioni, quindi che la relazione psicosociale, il contesto in cui vivo, le emozioni che incontro, l'accoglienza che ho all'interno di un tessuto urbano, cittadino, familiare, scolastico, aziendale, decide moltissimo della mia salute. Vedete che allora oggi bisogna che tutti si spoglino del loro potere temporale e del loro pezzettino di potere, perché in realtà oggi sappiamo che la salute, lo sviluppo economico, la sostenibilità e la prosperità di un territorio sono una materia assolutamente interdisciplinare, dove tutti, tutti possono dare un contributo, ma il contributo funziona se queste scienze si legano e parlano tra loro. Se si continua, come abbiamo fatto, a lavorare a compartimenti stagni, continuerò ad avere questo ritardo di crescita dal punto di vista anche culturale in Italia. Noi oggi abbiamo una cultura della salute bassissima, noi non facciamo prevenzione primaria, noi dobbiamo pian piano riabituare i giovani, i bambini, i ragazzi, ad avere cultura della salute, coscienza ecologica. Ecco, questa legge inquadra il comparto ambientale, quindi il rapporto uomo-ambiente, che è una cosa straordinaria per quanto sia determinante per la salute umana. L'assessore Antonini ha parlato della bosco-terapia, la forest therapy è una terapia riconosciuta dalla medicina, oramai acclarata, pensate, la pressione alta e la pressione bassa vengono risolte da 20 minuti di bagno forestale. C'è la pressione che si normalizza da solo, grazie ai terpeni. La parte fisiologica, nella regione Marche c'è la possibilità di avere un territorio perfetto per fare attività fisica di ogni tipo, da quella più ludica, dalla camminata, ai parchi, il mare, le canoe, cioè si può fare veramente di tutto. La parte alimentare e la parte relazionale, quindi avere un territorio che non è fatto di grandi metropoli, dove le persone non si conoscono, ma è fatta di borghi, di piccoli paesi dove ancora la relazione sociale c'è, è una relazione importante. L'innovazione fondamentale di questa legge è restituzione di responsabilità individuale alle persone. Questa è la parola che spesso spaventa l'essere umano, perché è bellissimo pensare che qualcuno risolverà i problemi per noi. E questo lo dico di nuovo con più forza ai giovani. La vostra salute, nella nostra Costituzione, c'è scritto una cosa che alla luce della ricerca scientifica suona come una cosa non molto vera. Il diritto alla salute. Voi avete il diritto all'assistenza sanitaria, ragazzi. La salute è una responsabilità individuale vostra, perché la scienza ha dimostrato che sono le vostre, le nostre abitudini, a decidere come minimo l'80% della vostra salute. Oggi si parla del 90% e la genetica ha un peso 10. Ma torniamo indietro, facciamo finta che vada benissimo 20. 8 parti su 10 della vostra salute le decidete con le vostre abitudini. Quindi è importante, questa legge è una legge che apre al concetto di responsabilità individuale ed è una legge che inizierà a fornire, e questa è un'altra cosa che sarà assolutamente un'innovazione assoluta, strumenti per autovalutare, questa è una cosa che noi iniziamo a fare, stiamo facendo con la comunità scientifica da sei anni, dare degli strumenti alle persone e alle istituzioni per avere un'autovalutazione delle abitudini e capire se le traiettorie che quelle abitudini creano sono funzionali alla vostra salute e a quella dell'ambiente e quindi sostenibili. Se la traiettoria è negativa, avete la straordinaria opportunità in tutti e quattro i settori, ambientale, relazionale, fisiologico, nutrizionale, di modificare quella traiettoria, di non aspettare la malattia, di non aspettare un dissesto idrogeologico, di non aspettare di avere la desertificazione dei terreni perché non c'è più azoto, si può intervenire e correggere, però fondamentale è monitorare le nostre abitudini, tornare responsabili dell'importanza che le abitudini dell'essere umano hanno nel determinare il futuro dell'ecosistema e delle persone, che sono due cose strettamente collegate. Guardate, la FAO pochi anni fa ha coniato una frase bellissima che a me fece molto piacere perché andava a incrociare esattamente quello che stavo sostenendo con un po' di fortuna e di visione, chiamiamo la visione più che fortuna magari, che si chiama One Health, cioè una sola salute nel mondo che lega esseri umani, animali e ambiente, quindi gli ecosistemi, perché oggi sappiamo che c'è una sola salute perché se si ammala l'essere umano è perché sta utilizzando sistemi di coltivazione sbagliati, produce cibo sbagliato e quello che ammala l'essere umano sta ammalando anche l'ambiente, perché la produzione di certi tipi di cibi che hanno costretto a fare monoculture, quindi a impoverire i terreni, perché li sfruttano in un modo feroce, sono anche gli stessi alimenti che poi indeboliscono il microbiota. La Sessora ha parlato di biodiversità. Guardate, nel nostro intestino, il nostro microbiota, o microbioma, scegliete voi, ma quello che conta è l'ambiente intestinale, tanto più è colonizzato da tanti batteri diversi, fatti da diversi tipi di cibi, soprattutto quelli locali a chilometro zero, tanto più il vostro intestino sarà un intestino funzionale, nel quale, è bene ricordarlo, ci sono il 75-80% di tutte le difese immunitarie di noi esseri umani. Quindi la biodiversità va assolutamente valorizzata. Le marche hanno tantissime cose belle già fatte, questa legge si pone tra i tanti obiettivi quello di mettere a sistema l'esistente collegandolo però a questi quattro punti. Cioè, lo sviluppo di una nazione civile non può prescindere da valutare la prevenzione. Non si può più continuare a produrre o a far qualcosa per noi o per gli altri che non sia passato al vaglio di questi quattro pilastri che sono in grado di dirci se realmente questo progetto è sostenibile. E guardate che sostenibile vuol dire che va bene per l'ambiente, va bene per noi, va bene per gli animali perché quello che funziona per noi funziona nell'insieme perché tutti siamo frutto di un'evoluzione che dura da oltre 30 milioni di anni. E questa evoluzione ha sancito e ha mantenuto degli equilibri che negli ultimi 90 anni noi abbiamo alterato in maniera molto, molto profonda. E abbiamo visto, chiaramente, tutti gli scienziati sono concordi che questa velocità di cambiamento non è una velocità sostenibile né per l'essere umano dal punto di vista biologico. pensate ragazzi che i maschi occidentali hanno il 50% di spermatozoi in meno degli ultimi 35 anni rispetto all'uomo di 35 anni fa. Quindi anche biologicamente non è sostenibile. L'ambiente lo stiamo vedendo tutti, lo stiamo vedendo dal punto di vista delle produzioni del cibo, lo vediamo dal punto di vista del cambiamento climatico. Quindi è importantissimo che tutto quello che un'amministrazione responsabile, civile, deve fare è valutare in via preventiva, costruire nelle persone la capacità di ragionare preventivamente. Se noi incrociamo tutto lo sviluppo con la prevenzione, noi avremo un mondo molto più bello, molto più sano e soprattutto molto più sostenibile che i nostri figli troveranno bello quanto meno quanto quello che noi che abbiamo più di 60 anni abbiamo trovato dai nostri genitori. Grazie.